Musica Furono annunciati già diverso tempo fa, tra le misure per evitare ingorghi stradali in corrispondenza del passaggio livello sulla via Vecchia per Molfetta. Quello all'incrocio tra via Paolo Scoppio e via Senatore Angelini. Almeno dal 2018, quando il comandante della Polizia Municipale Gaetano Paciullo illustrò l'idea di pannelli visivi per informare gli automobilisti dello stato aperto-chiuso del passaggio, invitandoli ad utilizzare in alternativa il sottopasso Ugo Pasquini. Segnali che da qualche giorno sono stati finalmente installati in via Matteotti e nei pressi dell'attraversamento. Non si può certo dire che siano inutili, data la frequenza con cui si generano lunghe code. L'installazione nasce nell'ambito degli interventi realizzati insieme a Ferro Traviare e Polizia Municipale, come ha ribadito anche il sindaco Michele Abaticchio, illustrando l'utilità che avranno i pannelli nel ridurre gli ingorghi, specialmente nelle ore più calde. Quando sia il traffico veicolare che quello ferroviario sono più intensi.